Cortona, come unico comune in tutta Italia, ha vinto l'edizione 2013 del Premio Nazionale Nati per Leggere. Il riconoscimento è per il miglior progetto di promozione della lettura rivolto ai bambini tra 0 e 5 anni, per la completezza, la continuità e la capillarità degli interventi, e per la particolare attenzione verso coloro che, grandi o piccoli che siano, ancora non padroneggiano la lingua italiana. La premiazione avverrà lunedì 20 maggio nell'ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino. Un premio molto importante perché comunque a livello nazionale ci dà molta soddisfazione perché questo progetto ci abbiamo creduto in tanti, in tante amministrazioni, tanti sindaci in questi anni, l'abbiamo continuato sempre a fare nonostante i tagli e è arrivato questo premio. E si parla sempre di 150-200 bambini nell'arco dell'anno scolastico, che è il periodo in cui facciamo le letture. Di tutte le età, partire da piccoli qualche mese fino a 10-12 anni. La lettura che può essere all'inizio, perché noi si parla di libro dato ai bambini a 6 mesi di vita, quindi è un libro che può essere una fotografia, che può essere un disegno, che può essere una parola, anche un'espressione, uno stato d'animo, tant'è che noi utilizziamo il libro, il primo libro che si chiama Guarda che faccia, è un libro, una serie di foto di bambini di vari paesi del mondo che hanno varie espressioni di imbronciati, di bambini che piangono, che ridono, quindi è quello che vedono, cioè non c'è una storia vera e propria. Però questo serve a creare una relazione tra chi legge e chi ascolta, e è da questo che fa la differenza. Grazie.